Siamo davanti alla mostra sul centenario del trotto a Cesena, all'ippodromo del Savio, qualcosa di bello per ricordare un secolo di storia che è veramente qualcosa di importante. L'Ipica vive un momento difficile, ma io credo che queste cose possano aiutare a farla uscire da questa situazione e invito tutti coloro che hanno voglia a venire a vederlo.